La questione del caro carburante è finita nel mirino della Guardia di Finanza. Appena due giorni fa gli uomini del comando provinciale di Pescara hanno portato alla luce una truffa ai danni dello Stato per 45 milioni di IVA e VASA su 207 milioni di base imponibile. Ma l'aumento abnorme dei prezzi è una piaga che opprime cittadini e imprese e le fiamme gialle non si fermano qui e lanciano l'operazione no stop, un piano di controlli H24 ai distributori di carburante con l'obiettivo in caso di rilevazione di elementi sintomatici di manovre distorsive della corretta dinamica di formazione dei prezzi di svolgere approfondimenti volte a risalire la filiera commerciale fino alle strutture e ai soggetti da cui potrebbero originare le speculazioni il tutto anche a danno dei consumatori. Dopo l'operazione Euronero che ci ha permesso di scoprire di disarticolare un disegno criminoso su tutto il territorio nazionale di rilevante frode all'IVA, la guardia di finanza di Pescara prosegue per garantire un presidio H24, weekend compresi, sul settore del commercio dei carburanti e svolgeremo questo piano di controlli risalendo la filiera commerciale per andare ad individuare in quale step della filiera possono annidarsi abusi, irregolarità che finiscono con il pregiudicare i cittadini, che finiscono per pregiudicare anche gli operatori commerciali che svolgono attività di trasporto delle merci. E questo un altro esempio di come la guardia di finanza sia a fianco alla collettività, a fianco degli operatori che svolgono il loro lavoro per il rilancio dell'economia.